Quando si parla di credito di firma, si parla di un credito, ma in realtà non è un credito, cioè non viene prestato denaro ad un soggetto che beneficia appunto di questo credito di firma. Perché? Perché è una sorta di prestito eventuale al manifestarsi in determinate condizioni. Ad esempio un soggetto, tipicamente una banca, si impegna a pagare un determinato creditore qualora il debitore alla scadenza non sia in grado di farlo. Quindi sostanzialmente si mette una firma, in questo caso una banca può decidere di mettere una firma a garanzia del debito che ha un soggetto nei confronti del creditore. Le fattispecie per cui si utilizzano strumenti come credito di firma sono veramente numerose, sono veramente variegate. Tipicamente se uno pensa al mercato del commercio internazionale, ecco che magari una banca è disposta a dare una fiducia perché è richiesta, ad esempio, del soggetto che vuole esportare, che quindi vuole incassare dei soldi da un debitore. Quindi una banca in qualche modo si impegna e dà questo credito di firma. Oppure se facciamo un esempio magari un pochino più ludico, pensate a una squadra di calcio che deve iscriversi al campionato, a volte deve dare delle garanzie della sostenibilità nel corso dell'anno, allora ecco che al momento dell'iscrizione vengono richieste delle fideiussioni bancarie. Qualora poi dovesse scattare effettivamente l'impegno che la banca si è data, ecco che quello che era un credito di firma, un prestito eventuale, diventa effettivamente un prestito per cui la banca si trova esposta nei confronti del soggetto per cui ha prestato la garanzia ed evidentemente a questo punto cambia il rapporto e cambiano anche i costi, gli oneri complessi connessi con questa operazione di finanziamento. Se uno pensa quando una banca concede una fideiussione si fa pagare una commissione, qualora poi dovesse dare la garanzia evidentemente si fa pagare degli interessi sul fatto stesso che sta prestando delle somme di denaro. Per la banca finché resta un credito di firma non è un'erogazione di un finanziamento, quindi ha un impegno, un impegno a fare qualche cosa, per cui nel bilancio non rientra nella voce dei prestiti, ma rientra in quelle che sono le voci cosiddette sotto la riga, lì in attenzione guardate che può succedere questa manifestazione di eventuale prestito, ma al momento è ancora tutto sotto controllo.